Allora, siamo qui a fare la consegna di Beonstar, abbiamo già consegnato il raccolto, alla fine sono 1.355, è documentato, dopo se ci vogliono le studi, è stato un po' il casino comunque, siamo riusciti all'obiettivo, pensavamo di arrivare a mille a malapena invece è stata una bella raccolta e niente. Grazie, grazie mille a tutti a chi ha partecipato. Grazie a voi di averci dato questa opportunità, noi facciamo sempre a fine anno qualcosa di utile e per quest'anno Vicenza. Questa volta metteremo il video della stanza. Ma è bella la stanza, facciamo vedere anche perché bisogna anche capire un po' l'ambiente, non è che è un hotel a 5 stelle. Va bene così. Grazie. Grazie mille a tutti a chi ha partecipato. Grazie a voi di averci dato questa opportunità, facciamo sempre a fine anno qualcosa di utile e per quest'anno Vicenza. Grazie mille a tutti.